Salve a tutti ragazzi che ci sono qui oggi siamo qui oggi con l'apertura della collezione IBGX di 8000 mesi fa Perché la sto prendendo oggi? Perché stava lì dentro l'armadio confezionata in questo modo da molto 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 tempo Talmente tanto che c'è anche la polvere sopra però Siccome stavo sistemando le carte promozionali all'interno dell'album C'ho solo la 175 quindi ho deciso di aprire pure queste altre due confezioni A meno le mettiamo nell'album, apro i pacchetti, tolgo la jumbo, metto la vendo e se ne va ne dando Quindi mi raccomando 5 miliardi di like Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione Allora andiamo avanti Togliamo la pellicolage E vediamo cosa troviamo ragazzi all'interno di questa confezione che contiene dei pacchetti molto molto interessanti Allora innanzitutto questa pellicola si toglie abbastanza facilmente solamente che Ok e quindi bene Allora togliamo Da qua iniziamo E vediamo se si toglie tutto il cartoncino senza rompere il colloncino Allora Ce la possiamo fare ragazzi Ce la possiamo fare anche Aperta Eccola qua Allora Estraiamo il contenuto della Confession Collection I VGX e voilà Allora Togliamo la carta promo Che basta fare Boom Che ho fatto No ste cose no ste cose no Leonardo cosa fai Cosa fai perché ho fatto Quindi si è allevata Adesso le spacco tutto Innanzitutto la carta promo Dove stava La carta codice Ah ecco la carta codice stava qua sotto Quindi togliamo un attimo la carta codice Che qui Questa carta non mi si è tolta Quindi adesso io spacco tutta la confezione La riproviamo Forse perché sono un po' arrugginito Che è tanto che non apro le confezioni E infatti ragazzi ero solamente arrugginito Buttiamo la plastica Infatti vediamo che la carta Non è danneggiata minimamente Perché quella tecnica ha sempre funzionato Solamente che era un po' Tanto tempo che non la facevo E quindi Eccolo qui Ci voleva lo scatto caricato ragazzi Faccio Scatto caricato E si esce la carta Si esce Vabbè Devo prendere la sleeve Non ce l'ho Quindi prendiamo questa sleeve qua Sleeve verde per oggi Ragazzi oggi usiamo il verde Quindi eccolo qui Sun and Moon 176 Vedete Ci sono tre carte di EVGX promozionali E ognuna ha la confezione sua E quindi Questa qui è la 176 Poi estraiamo la Schwamb Togliamo la pellicola Eccolo qui Per farvi vedere la Jumbo Non so più come fa ragazzi Perché non c'entra La mettono in orizzontale E faccio prima Guardate quanto è bello E lo mettiamo qua dietro Da sfondo Ma c'è la Pokéball Quindi Facciamo così ragazzi Attenzione Tiriamo avanti la Pokéball E mettiamo dietro la Jumbo Ancora più avanti Attenzione E mettiamo dietro la Jumbo E vede giù la Jumbo Eccolo qui Perfetto ragazzi E' uno schifo E' un'appesionata Di prima categoria Ma a noi non frega nulla Perché tanto il Jumbo Non si vedono mai Ragazzi è impossibile Far vedere il Jumbo Nelle quadrature Quindi mettiamo questa Almeno si vede questa Una del qua Una della bella pecionata Che stiamo a fa Ed ecco qui I quattro pecc Abbiamo Guardiani Nascenti Tuoni perduti Tempesta astrale Tuoni perduti Iniziamo subito Guardiani Nascenti Che è un'espansione Che odio E quindi Vediamo cosa troviamo Allora Sto spasciando Non so perché Non so che mi ha fatto De male Carta codice Togliamo Tricca 4 Che tricchiamo E andiamo subito A vedere cosa c'è All'interno di questo Primo pack Energia Allenatore 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 E allenatore Delibird Nuspass Costform Fantamp Glice con reverse Non comune E attenzione Wildord Raro Vlaudit Se l'espansione fa schifo Ma se vi dico Che fa schifo La luce Perché sta qua su Devi venire più giù Che non si vede cacchio Wannash La miseriaccia Adesso andiamo con Un toni perduti Ma questo qua di Serbia Voglio lasciare lui Per ultimo Non so perché E andiamo a vedere Cosa c'è All'interno di questo Secondo pack Allora Abbiamo un Ninkada Carta codice Che tricchiamo Tricca 4 Che tricchiamo E andiamo con Atenzione Atenzione Energia Oh Mo' già sapete meglio Lampent Grovive Allenatore Ninkada Hondon Cutiefly Cianciao Hotpip Fanfile verse Attenzione Attenzione Lo schifo Più assoluto Mannaggia Sti pacchetti De mattina Abbiamo un Tempesta Astrale E un Tuoni Perducci Qua voglio trovare Lugia Hyper E qua Ragguazza Full Art Quando iniziamo Prima Con questo Hyper Voglio trovare La Full Art Per ultima Allora E abbiamo Attenzione Carta codice Che togliamo Pacchetta Che buttiamo Tricca 4 Che tricchiamo E andiamo con Una bella Energia Girafarick Allenatore Stuntner Braxish Durant Mario Fanfile Hondon Bayliff Reverse Bene Sono contento De Bayliff Reverse Attenzione Victinitaro Bello schifo Però mettiamo Bayliff Reverse Non comune Nella sdiva verde Perché ci sta perfetto Nella sdiva verde Guardate Guardate che carino Abbiamo trovato Un Bayliff Reverse Che fortuna Questa confezione È stata la più Fortunata Dell'universo E andiamo Con il quarto Ed ultimo Pec Vogliamo trovare Una Care in vero Molto bella Attenzione Mi sa C'è qualcosa Davvero C'è qualcosa Davvero Spettacolo Ragazzi Con l'ultimo Pec E una bella Cartina Bene bene Ti ha salvato La confezione Cennina E abbiamo Attenzione Non si sta Fermo Energia Allenatore Transports Allenatore Electric Sidot Wingull Spoing CianCiao Marshton Preverse Ragazzi Vi ho aspettato Questo è il pool Delle evoluzioni Starter E attenzione Un Electrode GX Bella carta C'è sta Un bel Electrode GX Mi piace Perché poi Non so ne ho mai Se ce l'avevo Oppure no Quindi Bene bene Subito Nelle confezioni Ragazzi Trovo sempre Gli Electrode Qualche mese fa Settimana fa Non mi ricordo Quando trovai Gli Electrode GX Hyper Se vi ricordate Adesso abbiamo trovato L'Electrode GX Normale Molto bene Forse mi mancava pure Quindi Cioè Bella roba Bella roba Ci sta Quindi per questo video è tutto Spero che vi sia venuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Perché ci sono moltissimi Altri video da vedere Sul canale Già pubblicati E molti altri video Che ancora dovrò pubblicare E niente ragazzi Mi raccomando Carichi Perché questo periodo È sempre ricco Pieno Zeppo Zeppo Di roba Da aprire E quindi niente Like, subscribe, share È tutto quello che volete Iscrivetevi al canale